Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, già autore nel 2018 del best-seller Nata per te, storia di Alba raccontata tra noi, ha presentato il suo nuovo libro dal titolo Non chiedermi chi sono all'Istituto Florio di Erice nel penultimo appuntamento della rassegna letteraria Libriamo, ci incontro con l'autore, in cui ha raccontato l'esperienza della propria vita e cosa significa soffrire per una malattia, per amore o perché non ci si sente al proprio posto nel mondo e convivere con gli altri, riconoscersi uguali nella diversità, bellissimi nell'imperfezione. Tante le domande dei ragazzi alla presenza della preside Pina Mandina, lo abbiamo intervistato. Io credo che sia importante partire dai giovani, affrontare con loro il tema della disabilità non più da un punto di vista socio-assistenziale ma culturale, far capire che la disabilità è un mondo e i giovani oggi possono immaginare di incontrare la disabilità nel loro prossimo con i loro compagni di studio ma anche di crescita, non vedendola più come un problema ma come un'opportunità, proprio perché la normalità non esiste, nessuno di noi è normale, forse siamo tutti un po' disabili e non dobbiamo avere paura di questa diversità ma prenderla come ricchezza. La sua vita è una grande testimonianza in questa direzione, possiamo essere ottimisti dal punto di vista legislativo che diventa anche educativo. Ci dobbiamo lavorare, io sono molto più ottimista dal punto di vista sociale, cioè la società è molto più preparata alla diversità, la accoglie perché la vive ma invece lo Stato, non quello di oggi ma quello di sempre, è più lontano perché non applica nella diversità della società la diversità dal punto di vista giuridico.